Salve ragazzi sono DragonDTZ e in questo video vorrei ringraziare TheMasterSalve99 per avermi detto come si fa a scendere in modalità creativa Per questo gli do una bella iscrizione Se volete fatelo pure voi oppure niente Comunque iscrivetevi sul mio canale Comunque volevo dire che mi ha aiutato a scendere in modalità creativa Perché non sapevo come si faceva a scendere Cioè salivo con la barra spaziatrice e non sapevo come scendere Grazie molte TheMasterSalve99 Comunque ragazzi iscrivetevi sul mio canale DragonDTZ e mettete mi piace Allora grazie e dal prossimo video